Sono un paziente della clinica Polvirenti e volevo raccontarvi in breve la mia storia, una testimonianza che porto. Credo che merita questa storia di essere raccontata per tante persone che si affidano a delle strutture per rimuovere il tatuaggio. Tanti anni fa avevo fatto un tatuaggio sull'arto destro della mia gamba, sull'arto inferiore, di cui col passare degli anni questo tatuaggio non mi piaceva più. Così che cosa ho fatto? Sono andato in una struttura per farmi rimuovere questo tatuaggio, ma per mia sfortuna sono cascato male perché ho fatto più di dieci sedute e danno economico più la beffa che mi è rimasta una grossa macchia di inghiostro, il tatuaggio non è andato via. Così ero disperato perché era ancora più brutto da vedere. Cosa ho fatto? Che normalmente non si deve mai fare, ma ho fatto una cover di sopra. La cover comporta un tatuaggio molto più grande e ne è uscito fuori un gladiatore come voi avete visto nel profilo della clinica. Quello del gladiatore sono io che avevo questo grande tatuaggio. Così me lo sono ottenuto per dieci anni perché pensavo che i tatuaggi con il laser non li potevo rimuovere, che era una truffa. Dopo dieci anni guardavo i social e ho visto questa clinica, clinica pulverente in provincia di Catania, Giarre. La curiosità era tanta. Che cosa ho fatto? Era il mese di agosto ho telefonato ma giustamente la recezione mi dice che stiamo partendo in vacanza e ci telefono a settembre. Va bene così ho un po' visto il profilo di questa clinica e tutto. È il mese di settembre. Telefono, prendo un appuntamento, mi faccio i miei... perché abito distante da Giarre, no, la voglia era tanta di levare i suoi tatuaggi. Parto, mi faccio i miei 200 chilometri, arrivo a Giarre, vado nella clinica Pulvirente, in questa clinica e si presenta il dottor Pulvirente. Vedo questo dottore che ha una squisitezza, una gentilezza e mi dice mi faccia vedere il suo tatuaggio. Mi faccia vedere il tatuaggio. Giustamente quando ha visto il suo tatuaggio è perché era pieno di colore nero, 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 nero. Il dottore giustamente mi ha detto che prima dovevamo fare una visita curata per vedere il tipo d'inghiostro, la profondità dell'inghiostro. Facendo questa vista mi poteva dire cosa c'era da fare. Così fece questa vista col dottore e il dottore mi dice va bene se lei è d'accordo possiamo fare la prima seduta. Io sono rimasto con lui e ho detto sì dottore ma sa io ho avuto delle brutte esperienze prima di venire qua. Gli ho spiegato la mia storia in breve. Il dottore mi ha detto non ti preoccupare stai tranquillo qui al 100% io il tatuaggio lo rimuovo. Adesso ho fatto quattro sedute. Come voi avete visto nelle foto il tatuaggio è quasi svanito. Perché voglio fare questa testimonianza perché non voglio che altre persone cadano nella rete di tanti giarlatani e non faccio pubblicità. È una cosa mia, una cosa mia che ci metto la faccia e lo faccio con il cuore perché questa clinica veramente hanno i laser, sono specializzati. Il dottore Pulverende è una persona preparata a livello, è bravissimo. Tutto quello che lui mi ha detto si è avverato. Io posso dire che a oggi il mio tatuaggio, che non era un piccolo tatuaggio, era enorme, io non ce l'ho più, ho quasi finito le sedute e sono molto felice. Questa è una piccola testimonianza che ho voluto fare. Grazie.